Oggi prepariamo insieme pasta e patate con la cipolla sfritta, un primo piatto economico, gustoso e saporito che si prepara con pochissimi ingredienti. Innanzitutto pelate le patate e tagliatele a cubetti. Versate nella padella un abbondante giro d'olio. Unite la cipolla tagliata a fine fine. Condite con sale. E pepe. Lasciate stufare la cipolla a fuoco basso mescolando di tanto in tanto. Quando l'acqua è a bollore aggiungete le patate. E aggiustate di sale. Controllate la cottura delle patate che dovranno essere morbide ma non cotte. Verificate anche la cottura delle cipolle che dovranno essere sfritte ma non bruciate. A questo punto calate anche la pasta. Mescolate e portate a cottura. Scolate la pasta direttamente nell'olio con le cipolle. Naturalmente anche le patate. Mescolate e lasciate insaporire per qualche istante. Quindi aggiungete un mestolo di acqua di cottura della pasta. Mescolate ancora fino a formare una cremina con le patate che si saranno sciolte. Servite e la nostra pasta patate e cipolla sfritta di Nonna Maria è pronta. Buonissima, gustosa, saporita, veramente ottima. Grazie per avermi seguito. Ciao!